Maurizio Pellegrino Grazie A prescindere da chi andrà in campo però il Catania dovrà dimostrare di avere fame Se tu vuoi vincere il campionato e vuoi fare le cose fatte bene devi avere più fame degli altri Il tempo non manca, il campionato è ancora lunghissimo ma Perugia serve un cambio di marcia, di atteggiamento e soprattutto serve un risultato positivo e una prestazione convincente Perugia-Catania sabato alle 15 sarà diretta da Maurizio Mariani di Aprilia